ben ritrovati e benvenuti amici di auto occasioni oggi mi trovo da valore in corso orbassano 472 a torino e con me lui paolo dorizzi che responsabile del reparto usato ciao paolo ciao elisa benvenuta e benvenuti a tutti i nostri telespettatori quando parliamo di valore parliamo di un parco auto davvero enorme troviamo auto per i neopatentati ma poi davvero quelle più belle allora paolo a te la parola nel nostro parco vetture abbiamo più di mille auto quindi possiamo soddisfare veramente chiunque abbiamo tutte le motorizzazioni e qualsiasi tipo di vettura quindi dall'utilitaria all'isuv ai monovolume alle sportive qualunque tipo di auto tra l'altro abbiamo fatto una selezione di vetture che se vuoi possiamo andare a guardare insieme assolutamente allora non perdiamo altro tempo andiamo a scoprire tutte le proposte firmate valore state con noi partiamo con una lancia y 1.4 gpl nella versione unica con 90 mila chilometri del 2012 a 5950 una skoda fabia 1.2 ambition con 83 mila chilometri del 2011 a 5250 euro proseguiamo con una nissan micra 1.2 5 porte nella versione a 100 con 63 mila chilometri del 2011 a soli 5450 euro una citroen c3 1100 nella versione seduction gpl con 97 mila chilometri del 2011 a 5450 proseguiamo poi con una hyundai i20 1200 nella versione classic con soli i signori 27 mila chilometri del 2012 a 6450 euro una splendida toyota yaris 1.5 porte nella versione sol con 90 mila chilometri del 2013 a 6950 euro non può mancare chiaramente una fiat 500 mille due con 86 mila chilometri sempre benzina del 2007 a 4750 euro proseguiamo con una hyundai 10 mille nella versione comfort con impianto gpl 46 mila chilometri del 2016 7 mila e 50 sono tante anche le vetture chilometri zero che possiamo proporre vi un esempio una mitsubishi space star mille nella versione invite del 2020 quindi l'immatricolazione a soli 8 mila 800 euro proseguiamo con una volkswagen polo 1.2 high line con 90 mila chilometri del 2016 a 9 mila 450 euro sempre per rimanere in casa toyota una i go 1.5 porte nella versione x play con sentite bene solo 12 mila chilometri l'anno è il 2018 e il prezzo è 9 mila 450 euro chiudiamo con le ultime due proposte abbiamo selezionato l'alimentazione ibrida un toyota chr splendido nella versione style del 2017 con 59 mila chilometri a 18 9 e 50 ed infine una toyota auris con 46 mila chilometri del 2016 a 15 mila 4 e 50 avete visto davvero tantissime proposte qui da valore in corso orbastano 472 e poi paolo ricordiamo che tutte le vetture sono controllate garantite prima di essere vendute assolutamente sì te lo confermo ricordo tra l'altro che abbiamo un'azienda che può offrire un servizio a 360 gradi dall'assistenza ai finanziamenti le assicurazioni cari amici sempre con palo al nostro fianco prosegue l'appuntamento dedicato all'alternativa al nuovo le vetture usate ci troviamo nella sede di via race romoli 235b a torino adi motors ciao paolo ciao palma benvenuta a te in questa sede benvenuti anche ai telespettatori vorrei ribadire che da di motors sono oltre mille le vetture in totale a disposizione della clientela qui solo in questa sede ce ne sono oltre 300 di tutte le motorizzazioni di tutte le alimentazioni prezzi migliori del mercato con finanziamenti agevolati e pacchetti assicurativi allora partiamo subito con questa splendida smart coupé pulse del 2012 con 46.000 km a 6.450 euro proseguiamo su questa fantastica fiat punto 1.4 gpl 5 porte del 2015 con 76.000 km a soli 6.950 euro volkswagen up mille metano blue motion del 2014 77.000 sono i chilometri a 7.450 proseguiamo con questa fiat panda 1.2 5 porte benzina 2015 l'anno 68.000 km a 7.500 euro e ancora questa splendida lancia y 1.2 5 porte nella versione gold del 2016 con 40.000 km a 8.950 euro non mancano le chilometri zero un esempio una mitsubishi space star 1.5 porte nella versione invite immatricolata nel 2020 a partire da 8.560 euro una panda cross 4x4 del 2015 con 97.000 km a 10.250 una splendida kia seed 1.4 benzina active 2014 l'anno 46.000 km a 9.500 euro parlavamo prima di alimentazione ibrida questo è un esempio yaris 1.5 5 porte lounge plus del 2014 con soli 49.000 km a 9.750 toyota verso 1.6 diesel active del 2015 con 79.000 km a 12.450 uno splendido nissan juke 1.5 diesel nella versione più bella tecna del 2016 con 83.000 km a 12.950 splendida questa fiat 500 l 1.3 multijet nella versione lounge del 2013 con soli 31.000 km a 9.450 una kia niro 1.6 hybrid nuovamente del 2017 con 36.000 km a 18.450 e concludiamo con questo splendido toyota chr 1.2 benzina active a 17.950 a questo punto nel salutare i nostri amici telespettatori ricordo solo che siamo presenti su tutti i social seguiteci mettete il like sulle nostre pagine per seguire tutte le promozioni e gli eventi della nostra azienda grazie paolo per la tua simpatia e ospitalità e grazie a voi per averci seguito alla prossima